Ambiente angusto e pareti con la muffa, tubature che emanano cattivi odori e la condizione in cui versa la postazione del 118 a Padula dove risulta manchino i requisiti minimi previsti dalla legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Ad affermarlo la Cislef e Piva Lodidiano in una nota ai vertici dell'Asl Salerno e al sindaco di Padula sollecitati a trovare una definitiva soluzione per garantire sicurezza e dignità agli operatori e diritti ai cittadini. Costretti a lavorare in un ambiente angusto e betusto schiacciati dall'emergenza caldo in estate e dall'addiaccio invernale raccontano o continuano senza sosta le disavventure del personale del 118 nella postazione di Padula. I locali risultano in uno stato di degrado con pareti coperte da umidità e muffa, tubature aperte che emanano sgradevoli odori. Addirittura dopo un intervento da parte dei Vigili del Fuoco lo scorso 21 dicembre è stato chiuso un locale ritenuto inagibile e dopo le precipitazioni della notte del 25 gennaio scorso con infiltrazioni di acqua e successivo intervento dei Vigili del Fuoco la postazione del 118 è stata trasferita momentaneamente in altri locali. Una situazione che ha causato grave disagio sia per il personale che per l'utenza che si rega direttamente sul posto per le cure del caso e trovando la postazione non agibile è costretta a dover chiamare il 118 per poter ricevere assistenza, sperando, dicono, che esista ancora un presidio per assistere in emergenza la comunità di riferimento. I delegati della Cislef e Pivalodidiano lanciano quindi un disperato appello e parlano di una situazione divenuta ormai insostenibile. Sono mesi, sottolineano, che lanciamo il grido d'allarme per scuotere i vertici dell'Asla, prendere provvedimenti per garantire sicurezza e dignità agli operatori e diritti ai cittadini. Riteniamo, concludono, che ognuno debba assumersi le proprie responsabilità. Se manca una cabina di regia capace di fornire disposizioni, allora è il caso di dire si salvi chi può.